Coadiuvare i servizi di cancelleria, segreteria e ragioneria della locale Corte d'Appello attraverso l'impiego di un'aliquota di finanzieri in concedo appartenenti alle sezioni ANFI, l'Associazione Nazionale Finanzieri d'Italia di Sulmona e Avezzano e quanto prevede il protocollo siglato questa mattina dall'Associazione Finanzieri in Concedo di Sulmona e Avezzano e la Corte d'Appello dell'Aquila, un progetto che consentirà il miglioramento della risposta dei giudici e di secondo grado alla domanda di giustizia in termini di efficacia ed efficienza con evidenti ricadute positive sul piano socio-economico sull'intera comunità. La Corte d'Appello ha coinvolto nel progetto la Fondazione Cassa di Risparmio della provincia dell'Aquila che in ragione delle proprie finalità di promozione socio-economica del territorio si è resa disponibile ad offrire a personale dell'ANFI un contributo minimo mensile a titolo di rimborso spese per l'attività prestata a favore dell'ufficio giudiziario. Il progetto potrebbe costituire un modello di collaborazione replicabile in altri contesti territoriali. L'iniziativa è stata promossa dal Presidente della Corte d'Appello dell'Aquila ed è finalizzata all'impiego, previa sottoscrizione di apposito protocollo, di personale del Corpo della Guardia di Finanza in Quescenza nell'attività di funzionamento degli uffici giudiziari per supportarne e migliorarne i servizi.